Musica Incontro l'onorevole D'Agostino, senta c'è stato un certo dibattito su questa reggia trazzera, la strada dell'onestà, che in effetti lei l'ha percorsa già? E' stata percorsa abusivamente quando ancora i grillini non c'entravano nulla. Ma lei ultimamente l'ha percorsa questa strada, si è regata a Palermo attraverso la trazzera famosa ormai? No, spero di sperimentarla lunedì, quindi poi le farò sapere. Comunque come considera questa operazione? Un'operazione pubblicitaria, di poco conto perché servirà a ben poco, sono soldi sprecati. Quindi invece rispetto al governo Crocetta lei ancora lo sostiene o che cosa? Ma ho avuto modo di dichiarare che ormai consideriamo questa un'esperienza conclusa. Però non si vota? E questo non dipende solo da me, per me possiamo andare a votare anche a ottobre.